Sembra che ti sia guadagnato il diritto di far parte della nostra società. Ragazzi, mettetevi in cerchio. Viva! 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 Fuori di qui, prima che vi faccio a pezzi. Ma dove andate? Non scappate, sto scherzando! È un libro, un classico della letteratura, quello di Moln, ma è anche, ha dei contenuti molto alti, non solo è un romanzo di formazione, ma a mio avviso è anche un romanzo dalle tinte fortemente antimilitariste. Si tratta della guerra che si fanno due ragazzi per appropriarsi di un campo dove poter giocare, senza sapere che poi alla fine questo campo da gioco, questa ex segheria in disuso, viene poi demolita, perché la proprietà costruirà una casa e quindi ogni battaglia, ogni guerra, ogni sforzo sarà vano, però Nemechek riuscirà a riunire questi due gruppi e a non farli più combattere l'uno con l'altro. Ecco dove secondo me sta un forte messaggio antimilitarista. Ma a che modi sono? Signora Iunia! Lasci, lasci pure. Grazie, può andare, Anton. Io dal campo non me ne vado. Domani come di dovere, tu sloggi dalla segheria. Tu e quei quattro mocciosi ai quali hai permesso di occupare la mia proprietà senza neanche informarmi. Voglio il mio campo e voglio che quei ragazzi possano giocarci. Stia eccente, la risposta è no! Sai, le cose a volte non sono come sembrano. Non ci puoi stare più, va bene. Per costruire questa mamma mi sono fatta mettere una parrucca scura a color topo, completamente senza trucco, con un solo vestito dall'inizio alla fine. Non mi era mai successo interpretare un personaggio così. Questa è la prima volta che mi capita di affrontare un personaggio tragico. Mi era capitato più volte di fare personaggi drammatici. Ho iniziato con personaggi drammatici e ne ho fatti diversi. Grazie, mamma. Tieni, ciao. Complimenti! Avete trovato nella signora qui presente un avvocato coi fiocchi. Potete usare il campo. Su quel campo sorgerà uno stupendo caseggiato, un edificio di quattro piani per dodici famiglie, quello che si chiama progresso. E ti avverto non provare a metterti sulla mia strada. Ci divertiremo, Giulia. Ci divertiremo. Essendo una donna battagliera, non solo cerca di dare una mano a questo gruppo di ragazzini che poi sono i ragazzi della Via Palla, a trovare un luogo, un posto dove giocare, ma cerca di aiutare anche questo suo ex, diciamo, innamorato, perché ha dei problemi con la moglie. Siccome lei è avvocato, cerca di dargli una mano. Insomma, è una che combatte sempre. È una donna veramente con una grande personalità. E te che avrei dovuto sposare? Chissà perché non l'hai fatto. Già, chissà perché. Questo Janos Schall, l'ex proprietario di questo terreno dove giocano i ragazzi, sembra all'inizio uno burbero, uno molto duro, che non vuole lasciare entrare nessuno in questo suo terreno. Poi invece scopriamo che ha veramente un cuore, una simpatia per questi ragazzi che cercano un posto dove giocare. E poi si fa molto amico anche del nostro protagonista, il piccolo Nemechek, perché questo Nemechek assomiglia molto al suo figlio Simon, che è morto proprio nella stessa età di Nemechek. La cosa, devo dire, più piacevole di questo film era l'arrivo la mattina quando arrivavo su sette. Proprio una cosa che mi dava una gioia perché vedevo questo gruppo di ragazzi. E stavano sempre con il panino, con il toast, con il bicchiere di cioccolato. Con delle facce questi bambini assolutamente eccezionali, magnifiche. E dei grandissimi attori, tutti i bambini presi dalla strada. Che il regista Maurizio Zaccaro è stato sei mesi in Ungheria per cercare queste facce. Per cui la gioia di poter lavorare con questi bambini è stata una cosa fantastica. È vietato l'intervento degli adulti nel combattimento. Non preoccuparti, gli adulti non interverranno. L'onore, io non sono un eroe di guerra come tuo nonno. Non c'è mai stato un solo giorno di guerra da quando, ragazzo, sono entrato in accademia. Otto, nove, dieci. Puntate! Padre! Il lavoro è lavoro. Sì. Ah, il tuo è un lavoro sporco. Da sciacalli. Sei patetico, Janos. Proprio tu vieni a farmi la morale. Tu che vivi come un vagabondo. Un vagabondo, certo. Meglio un vagabondo che arido e senza cuore come te. Smettila, taci! Sarebbe troppo banale dire che i ragazzini sono più adulti degli adulti stessi. Però al tempo stesso gli adulti non si rendono conto di quanto sia importante questo piccolo spazio. Perché si parla poi di un campo di periferia. Quello è alla base di tutto il discorso. Perché i ragazzini nel 1905, come dal resto oggi in molte metropoli del mondo, non hanno degli spazi adeguati dove poter giocare, dove poter ritrovarsi in una piccola comunità ludica. Per cui giocano nelle strade, giocano in ambienti che non sono adeguati a questo scopo. Per cui giocano nelle strade, giocano in ambienti che non sono adeguati a questo scopo. Per cui giocano nelle strade, giocano in ambienti che non sono adeguati a questo scopo. Grazie.